Vai. Nei occhiali. Adesso risolgo. Sì. Grazie papà. Prego amore. Cioè, la bicicletta è da parte di mamma e papà. Il cubo giallo è da parte di nonno Beppe e quegli altri Lego sono da parte di nonna Checche. Sei contento? Addirittura. Devo giocarci ora. Certo amore, adesso giochiamo, va bene? Quello è il bigliettino che c'è scritto nonno Beppe. Guarda un po' quelli là, così anche li vedi. Cos'è quello lì? Pulizia. Sempre di Lego. Questo è da parte di nonna Checche e anche quell'altro è da parte di nonna Checche. Guarda un po' cos'è. Cattivo. È la macchina di Batman. E c'è anche i Jopper? E c'è. In realtà è il pinguino. È un altro nemico di Batman. E quella lì invece è la bici più grande che ti ha preso mamma e papà con il robot. Dello stesso colore di quelli dei papà, hai visto? Nera e arancione, i nostri colori preferiti. Con il robot. Ma c'hanno anche le rotelle. C'hanno anche le rotelle e poi le togliamo. Questo qui è da grande, si può togliere dopo. Ma la macchina è quella rossa? È? È già sotto le rotelle. La torta a mano. La torta a mano. La torta a mano. Salame, non la puoi rompere adesso. Ok? Ma dite cosa? Cosa vuoi dire? L'ho tirata solo fuori così è già pronta. Adesso la apparecchiamo. Madonna ragazzi. Ho sete! Di cartone. Ho sete! Dove stiamo amore? In che città siamo? Io qua come abbiamo salutato le signore all'aereo. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Perfetto. Siamo a Parigi. Già questa prima parte del viaggio l'abbiamo fatta. Un'ora e mezza d'aereo. Adesso vediamo che abbiamo un'ora e mezza di treno. A presto. Sì. Sì. Allora. Grazie a tutti. 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 Siamo a Treviso, da un paio di giorni e adesso sto facendo l'ultima saluta di pesi prima di cambiare nazionali. Stiamo qui a Max, da un po' di switch. È un pezzaiolo oggi? Scusi, scusi, io vorrei una pizza. Io vorrei una pizza fatta da lei, sì, pomodoro e mozzarella, margherita. Eccoci qua la sedia, eccoci qua la sedia, ecco qua la sedia. A te non piace tanto. A te non piace tanto. A me piace tutto. Amore, vai, vai, piazza, piazza. Sei pronto? Sei pronto? Un, due, due e tre. Un, due e tre. Ha vincito. Tre ulteriori sono scappate, non importa, adesso devo riprendere. Voilà. Spontanea. Noi stiamo per andare con la navicella nello spazio, vero? Sì. A fare una vacanza. Una vacanza. Con questa navicella sì.